Dovrà avere delle caratteristiche, no? Se ti piace uno senza capelli, quelli con i capelli non ti scrivono. E' venuti che prendiamo tutti. Quindi, come lo vuoi? Non lo vuole. Anche lei è venuta solo per mangiare, ragazzi. Uomini, qua nelle Marche non si fa meno. Tieni, tieni. Vediamo, vediamo. Ma non lo so, rispondimi, non lo so. Io sono il postino. Quando il postino ti porta la lettera. Non lo so, rispondimi, ciao. Una domanda. Si. Se si nasce l'amore con il parfalle, venite pure al matrimonio? Ma certo. Certo, se si mangia... Vediamo fare da testimoni. Vediamo fare da testimoni, Carmen. Io sono già nato a molti matrimoni. Ecco, siamo già amati qua. Allora, la 26 vuole sapere se nascono le parfalle. Prenota, prenota già il ristorante. Se non veniamo amato al matrimonio. E certo, se si mangia, vediamo sia, scusa. Ovvio. Allora, ragazzi, non c'è niente. Guarda. Sono tutti single. Sì, sì. Tutti single. Single devi essere. Quello che vedi che è illuminato dalla luce, qui è single. Va bene, grazie. Puoi scrivere a tutti. Scrivi, scrivi, scrivi. Non è faticato. Bene. Anche il cameriere è single. Come ti chiami tu? Come ti chiami? Antonio, sei single tu? Sì. È single anche Antonio. Ragazzi, se vi interessa, scrivete al cameriere Antonio. Vedete? Atletico, magro. Non è in sovrappeso. Maturo al punto giusto. Se vi interessa, scrivete ad Antonio. Antonio, devo trovargli un uomo, una donna. Una donna? Anche un uomo va bene. Signora. Sì, qua nelle Marche siete di larghe vedute. Bene, bene, bene. Facciamo, facciamo. Dai. Ciao, Radiella.